ok lintentari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora toccate matteo ok iniziamo a giocare a questo nuovissimo gioco the is this police ringraziamo chi ce l'ha dato e vediamo adesso com'è dovrebbe essere una cosa tipo polizia indagini ok salvataggi si news game vedete c'è sotto come qualche cosa di lampeggi come la polizia e robe varie vediamo roger vedete vi dice dove dovete andare and we have this one e l'abbiamo ammanettato preso adesso tocca a lui turno degli altri ah gli ha dato la scossa ok toccano il quarto turno i manetti questo Grazie a tutti. E abbiamo ammanettato anche l'altro. Tocca il prossimo. Quinto turno. Sì, non è male come gioco. 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 But today I wasn't so lucky I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? No, Sharpewood showed up, can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson I haven't seen her since the third grade Maybe she'd moved or died, I mean, it's Hey Lily, so we're getting rid of this thing tomorrow? Uh, what? We do what? That drawing thing in the hall We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Demi Vediamo, perché è un gioco bello Con una trama bellissima Bisogna solamente capire com'è Qualche cosa di più Ecco, adesso dovrebbero essere 4-5 domande La lingua penso che si possa cambiare Nelle impostazioni potrete, mi sembra, mettere l'italiano Inizio come sempre su tutta la parte delle storie Che vi spiegano un po' tutto quanto Quello che devono fare Va bene ragazzi, vi lasciamo da questo pezzo E ci vediamo alla prossima Ma vai tu Oh ma dai è finito il video Ci vediamo alla prossima Sempre e soltanto Nintendari Ciao 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 Ciao